Buongiorno a tutti, nel precedente video abbiamo analizzato il metodo del gradiente, come potete vedere da questa pagina che è trattata dal vecchio video, e ora andremo a fare alcune osservazioni sul metodo del gradiente e poi analizzeremo il metodo del gradiente coniugato. Ok, andiamo a fare le osservazioni sul metodo del gradiente. Si può abilmente dimostrare che rk più 1 trasposto per rk, ovvero il residuo tra due iterate successive, è uguale a 0, ovvero il metodo del gradiente presenta ortogonalità tra due iterate successive, anzi tra i residui di due iterate successive. O meglio, si può dire ancora meglio, i vettori del residuo sono a due o due ortogonali. Perfetto, su questo si basa il metodo del gradiente coniugato. Attenzione però, il metodo del gradiente presenta la proprietà solo locale di ortogonalità, non è garantita l'ortogonalità rispetto a tutte le iterate, ma solamente a due consecutive. Però posso scegliere delle direzioni che costituiscono una successione ottimale di vettori. Quindi scelgo una direzione di discesa ottimale affinché sia verificata un'ortogonalità tra tutti i residui. Per farlo riscrivo l'algoritmo del gradiente così, xk più 1 uguale sempre a xk più alfa k per pk, dove pk è la nuova direzione di discesa. Lo scrivo qui, magari in viola, scrivo nuova direzione di discesa. Ok, ora andiamo ad analizzare finalmente il metodo del gradiente coniugato. Scrivo pcg, visto che il comando di MATLAB è proprio questo. P sta per precondizionato. Allora, il metodo del gradiente coniugato si basa su questa formula, ovvero su una successione di vettori A coniugati. Ricordiamo che una successione di vettori A coniugati si intende, questo è un vettore A coniugato. Un vettore si dice A coniugato se rispetta, se dati W e V, scusate ho scritto due volte W, se dati W e V viene rispettata la seguente relazione per ogni scelta di W e V. In questo caso i due vettori si dicono A coniugati. Analogamente, ora definiamo il metodo del gradiente coniugato, un metodo in cui i vettori PJ e P al passo K più 1 sono A coniugati per ogni J che va da 0 a K. Cioè tutti i vettori, non solamente quelli consecutivi come nel metodo del gradiente, sono ortogonali. Per ora però diciamo solamente A coniugati. Ora vedremo l'ortogonalità. Che scelte dobbiamo fare? In primis dobbiamo scegliere PK. Scriviamo PK. Ora, PK più 1 è ortogonale a tutte le precedenti e la soluzione XKP1 è ottimale rispetto a tutte le definizioni di discesa P0, P1, fino ad arrivare a PK. Quindi, che scelta posso fare? Come lo scelgo PK? Allora, sicuramente dobbiamo partire da un punto certo, cioè P0 deve essere uguale a R0. Su questo siamo obbligati. PK più 1, come lo scelgo? Bene, PK più 1, scusate, ho perso un pezzo, PK più 1. Lo scelgo così. RK più 1, così riprendo il residuo, meno beta K per PK. Che cos'è beta K? Beta K. Mi serve beta K perché così perturbo un po' il residuo e mi serve in modo tale da ottenere tutte le direzioni a ortogonali. che forma deve avere beta K? Magari lo scrivo con un altro colore. Beta K, lo scrivo qui. Deve avere la seguente forma. APK. Ricordo che dobbiamo tendere alla aortogonalità. RK più 1, ok? E al denominatore abbiamo ancora APK. questa volta non trasposto per PK. in questo modo avremo rispettata la nostra richiesta. Perché questo ci porterà ad avere il seguente sistema. cioè P al passo J lo scrivo come apice dicevo PJ ce la posso fare oggi, scusate. Ok. Dicevo PJ trasposto per RK più 1 che è il numeratore è uguale a 0 quando sono ortogonali e poi PJ trasposto per A per PK trasposto per A per PK più 1 è uguale a 0 quando sono A ortogonali. bene ora finalmente siamo arrivati al cuore dell'argomento ovvero come definiamo alfa K nel metodo del gradiente precondizionato alla luce di aver definito P tale per cui PK più 1 sarà il residuo RK meno beta K PK aver definito beta K come una piccola perturbazione del residuo che mi serve per definire tutti i residui ortogonali e per avere una direzione di discesa ottimale fatta questa considerazione arriviamo finalmente a definire alfa K ecco qui che ora scriviamo alfa K alfa K avrà la seguente forma avrà la forma PK trasposto per RK questo è un R e al denominatore abbiamo ancora ovviamente PK come potete intuire la forma è sempre la stessa per A per PK ok perfetto l'algoritmo del gradiente coniugato e anche precondizionato è molto simile a quello precedente con l'aggiunta di avere un'alfa K che ha questa forma beta K che abbiamo scritto prima e PK più 1 che è RK più 1 meno beta K PK per il resto l'algoritmo è uguale al precedente quando converge questo metodo noi sappiamo che la metrice è simmetrica definita positiva altrimenti non posso applicare neanche il metodo del gradiente allora valgono queste tre cose il gradiente coniugato converge sempre sempre al più in n passi quindi 1 scrivo converge al più in n passi e questo è il risultato più bello di questo metodo inoltre per ogni iterazione per K che va da 0 a n l'errore è ortogonale a PJ per ogni G che va da 0 a K meno 1 scrivo per ogni K che va da 0 a n l'errore è ortogonale lo scrivo così a PJ magari tolgo questo è ortogonale a PJ ok infine vale la seguente relazione che scrivo in viola allora la norma dell'errore e K può essere maggiorata questa norma indotta scusate da questa relazione ora scendo un attimo 2 per C alla K fratto 1 più C alla 2K per l'errore iniziale in norma indotta che cos'è C che cos'è C C è il rapporto l'abbiamo visto prima abbiamo visto una forma simile prima non esattamente quella perché prima non avevamo la radice K2A meno 1 fratto K2A più 1 ok detto ciò K2A nel caso di avere cioè il numero di condizionamento nel caso di matrici simmetriche definite positive presenta un metodo più semplice per calcolarlo perché se non abbiamo un compilatore se non abbiamo MATLA per esempio diventa difficile calcolare il numero di condizionamento però nel caso di matrici simmetriche definite positive possiamo utilizzare un'importante relazione per il calcolo di K2A ovvero il seguente rapporto ovvero K2A nel caso sempre di matrici simmetriche definite positive è uguale al rapporto tra lambda max e lambda min e questo conclude il video sul metodo del gradiente gradiente coniugato